Cosa è stato? Che diavolo è questa costruzione? Ma che cosa sono queste costruzioni strane? Ho paura eh Oh mio dio! Ma è scomparso! Che diavolo è questo posto? Oh mio dio inquietantissimo non posso farlo Oh mio dio bruttissimo Bruttissimo, orribile, orribile tutto ciò Che cavolo sono queste cose? Ma poi sono completamente Inutili, scusate cosa fanno? Vediamo un attimo Aspettate un attimo, qua c'è un pressure plate Se io ci vado Si sta caricando minecraft Cosa sta succedendo? Dove diavolo sono finito scusate? Start, cosa devo startare? No! Io non so cosa diavolo dovrebbe essere questa cosa E non so perché faccia tutto questo rumore Non so niente Sembra solo una sorta di tipo ascensore se vedete E quindi Siamo arrivati a quanto vedono i miei occhi Facciamo così Usciamo direttamente Ah ok perfetto Ho queste cose che posso prendere Cioè così? Ok perfetto Si può salire santo di Ma che cavolo è sta Raga No No per favore vai via Non dovrebbero esserci No Muori Che schifo Che pizza Cosa sono questi uccelli che volano? Ovviamente non si può rompere il legno Raga cosa sta Perché corro così veloce? Cioè io in questo momento sto andando shiftato perché Raga ma ho la velocità di Sonic Ok sembra un labirinto effettivamente Oh raga che figata Forse dovevo seguire il compass Però se posso dirla mia Sembra che sto rallentando raga Cioè nel senso prima Avete visto quanto ero veloce Adesso sono ancora molto più lento Certo sono ben più veloce rispetto al normale Perché se vedete io posso correre E infatti così vado shiftato Cioè nel senso Sono stra veloce Raga Oh no Oh no Io devo andare da questa parte Io so Che questa è la parte giusta Però Allora Sonic in realtà Pensavo fosse più veloce Invece il signorino Mi sembra che non sia così veloce Secondo me Vai via 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 Sonic Ma se io faccio così Scappa Vai via No 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 Ti prego No ti prego No ti prego Sono incastrato Raga sono incastrato Raga sono incastrato Scappa Via 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 Stavo per morire Stavo per morire Sono vivo Sono vivo Non preoccupatevi È stato terribile È stato terrificante Cos'è questa cosa? Ah ma lì c'è una pressure plate Andiamoci Ok siamo ritornati qua Vedo Ah qua c'è un buco Che in realtà Sembrano tipo quei buchi degli SCP Non so se avete presente Per fortuna O il legno E posso utilizzarlo Per farmi un piccone Per scavare qua sotto Se io scavo intorno Non c'è niente Allora l'unica cosa Che ci resta da fare È scavare sotto Effettivamente Cosa? Sonic è un mostro Non guardare dietro di te Perché? Oh mio No 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 Io ci muoio Ragazzi ci sto per morire Ok io non metterò mai più piede In questi mondi Dove sono? Ok Per favore Ricordatevi di lasciare tantissimi like Fatelo ora Fatelo ora Perché se no io in sti mondi maledetti Non ci entro più E commentate se volete vedere altri video di sonic.exe Grazie a tutti